bene amici di TechDifferent eccoci qua con OneCast l'applicazione ho già installato vedete che è selezionato il mio gamertag qui possiamo selezionare a qualità video streaming poi possiamo mettere anche altre cose che non ci interessano più di tanto se abbiamo solo queste solo il nostro Mac collegato in questo caso e la Xbox vedete che è dopo un pochettino che carica circa un minuto si collega tranquillamente possiamo io sto utilizzando il joystick della Xbox One quindi andiamo a vedere tutte le pagine possiamo utilizzarla come fosse il nostro tv il nostro monitor principale quindi possiamo anche andare a giocare perché no utilizzando appunto il nostro display del Mac del MacBook e poi possiamo utilizzare anche i comandi dell'iPhone per utilizzare per non utilizzare il gamepad della Xbox One possiamo anche utilizzare quando utilizzassimo l'applicazione su iOS possiamo anche utilizzare il controller Miphi è scritto quelli certificati per giocare sui giochi che scarichiamo da Apple Store per iOS dunque piena compatibilità con iOS con il Mac e dunque finalmente possiamo utilizzare i nostri monitor dei PC o degli smartphone o dei tablet Apple come streaming nonché possiamo anche registrare i nostri gameplay perché utilizzando QuickTime cliccando su file registra schermo possiamo anche registrare i nostri gameplay tranquillamente OneCast un'ottima soluzione a soli 21,89€ avete appunto la possibilità di utilizzarlo su più gamertag della vostra Xbox quindi decisamente ottima bene non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione ringraziamo anche OneCast che ci ha dato la possibilità di provare la loro applicazione soprattutto l'ultima versione vi saluto e vi rimando al prossimo video grazie ancora ciao Grazie a tutti